Esciò però la logistica GND di San Cipriano dopo la rottura delle trattative fra azienda e sindacati nel magazzino oltre Padano che smista vari generi di merci. Fino a poche settimane fa lavoravano attraverso una cooperativa, la MagService, circa 80 addetti. Ma spiega la CGL di Pavia, invece di uniformarsi al contratto collettivo del settore come richiesto, si è assistito alla decisione unilaterale da parte della proprietà di licenziare 20 lavoratori e di riassumere i 60 rimanenti a tempo determinato o con contratti di somministrazione. L'azienda ha in qualche modo detto che il lavoro è calato ma sostanzialmente i lavoratori ci hanno detto e ci hanno fatto vedere anche le buste paga dove hanno fatto un sacco di ore di straordinari anche nel periodo del lockdown perché poi stoccano mascherine piuttosto che igienizzanti, piuttosto che camici a mucchine quindi tutto materiale sanitario non solo, anche materiale d'ufficio. Però non è mai calato il lavoro anche nel periodo del lockdown. A maggior ragione voi dite che questa è una cosa che non vi aspettavate? Assolutamente, non ci aspettavamo perché davanti al prefetto il tema era l'applicazione contrattuale corretta. Tenete conto che c'è un'applicazione contrattuale che in realtà non rispecchia la tipologia lavorativa che c'è in questo impianto. Loro sono tutti magazzinieri in qualche modo, carrellisti, ricevitori, piccheristi quindi l'applicazione contrattuale dovrebbe essere del trasporto merci e logistica chiaramente. Quanto tempo lavori qua? Io lavoro da sette anni qua dentro qua. Ho fatto due corsi con il proprietario e con altri dirigenti e mi ha detto in faccia che non mi conosce. E c'è il mio negozio con il mio nome e cognome come responsabile del primo soccorso e dell'antincendio. Io sono qua da undici anni e mezzo che lavoro qui. Ho cambiato non so quante cooperative e adesso sentirmi dire che da contatto a tempo indeterminato perché solo il primo mese ci ho avuto determinato. Mi passano a contatto determinato per tre mesi e basta. Cioè è una cosa bruttissima. Tanti hanno famiglia poi immagino. Appunto alcuni lavorano in due qua quindi in caso che rimangono a casa rimangono tutte e due. In caso quello non furtissima è davvero vero criticalμα Grazie a tutti